Nuovo appello dell'Avis per la donazione di sangue in questo periodo delicato che si sta attraversando. La raccolta di sangue, ricordiamo, verrà effettuata presso il centro dell'Avis comunale di Via Von Platen. L'Avis di Siracusa coglie anche l'occasione per ringraziare tutti i donatori che in questi giorni così difficili, superando qualsiasi timore, stanno continuando ad effettuare la donazione. Un grande gesto d'amore e di solidarietà verso chi ne ha bisogno. Sottolinea l'importanza, soprattutto in questi giorni di emergenza, di continuare sempre a donare il sangue se si è in buona salute. Si ricorda inoltre che non si applica l'obbligo di permanenza domiciliare per tutti i donatori di sangue che si recheranno presso la sede dell'Avis comunale di Siracusa in Via Von Platen o che stanno rientrando a casa dopo aver fatto la donazione. e ad ogni donazione verrà consegnato l'atto di dichiarazione formale dove verrà indicato il motivo dello spostamento dal proprio domicilio che varrà come giustificazione per le forze dell'ordine. In questi giorni di emergenza l'Avis invita ancora una volta tutti i donatori a sottoporsi al prelievo per donare il sangue. Grazie a tutti.